Intanto Nicola Moseri in fila all'1-0, riparte Carpi e diamo il benvenuto a Nacor Medina. Vedremo subito come si comporterà il nuovo straniero del Presano. Nacor Medina, centrale classe 88, doppio passaporto spagnolo, è nato alle Canarie, alla Spalmas, è cresciuto praticamente in Svezia e proprio dalla Svezia proviene dalla formazione del Red Bear Glitz, formazione in cui è cresciuto e in cui era ritornato dopo le esperienze all'estero. Tra l'altro ha vestito anche le maglie gloriose dell'Elverum e della Cuenca, quindi un giocatore senz'altro esperto e che potrà apportare qualcosa alla causa del Presano. Presano che comincia questo 2023 dalla stessa posizione in classifica in virtù dei 19 punti accumulati c'è una piccola macchietta, ossia nel recupero della dodicesima giornata a Rubiera ha impattato 28-28 con il Secchia nonostante un vantaggio che era diventato anche abbastanza convincente. Sì hai ragione Gianmarco, un mezzo passo falso contro il Secchia che comunque è una partita che potevamo anche perderla ora c'è il giocatore del Carpi che è stato colpito involontariamente, l'arbitro fa benissimo a mio modo di vedere e interrompere l'incontro, l'arbitro ora ha di pulire, nessuna conseguenza per il giocatore di Carpi, tutto bene così. Ecco c'è stata questa macchia, te dici, di contro il Secchia, però è una partita, io addirittura oserei dire un buon pareso perché abbiamo in certi frangenti anche rischiato di perdere la partita. Per completare il discorso di prima parlando un po' con Alessandro Fusina io penso che Nacor Medina, adesso noi dobbiamo ancora vederlo, è tranquillo in panchina potrà dare sicuramente delle soluzioni alternative in attacco la domanda è in che condizioni fisiche si è presentato questo giocatore con la palla a Sontachi, Dallago quasi perde il pallone, gira ancora Dallago va alla conclusione, niente di fatto, riparte Carpi attesa Marco riparte il Carpi che deve recuperare una rete di svantaggio nel frattempo attacca Casa, va al tiro Alex Coppola top scorer dei Biancorossi dall'altro lato invece Alessandro Dallago recupera il pallone si invola verso la porta di pesa da Benafrage e insacca il 2-0 Coppola per lui sinora 83 reti proviene dal Brixen uno dei maggiori prospetti di quella squadra giovanile che ha tante volte affrontato il Pressano versione Juniores si hai detto bene, sono sempre state delle grandissime battaglie contro Pressanone e mi fa piacere che Coppola e mi fa molto piacere che Coppola sia protagonista nella squadra di Carpi perché è un bravissimo ragazzo molto tecnico vedrete che darà molte soddisfazioni ai tifosi del Carpi attacca ancora Carpi Casa ancora che viene contrastato l'arbitro ha alzato la mano del passivo vediamo quanti passaggi restano ancora Casa, Casa fallo di Dallago buona difesa fino adesso della formazione zalonera che fino adesso ha sempre fermato ha sempre fermato gli attacchi del Carpi buona parata di buona parata di Nicoloizos aiutato da una buona difesa attacca ora Palla Sontachi su cui viene commesso un fallo vistosissimo buon avvio sicuramente della nostra difesa rientra rientra Pascal Dantino al posto di Nicola Moser nel frattempo si riscalda Anna Corometina come facevi notare te buona difesa in effetti è tutta arroccata al centro dell'area proprio a cercare di sventare le insidie principali che sono costituite dai tiri di Coppola e soprattutto di Crescic Casa mancato sposo di questo pressano Franz si hai detto bene era era quasi fatta da quel poco che che so con Casa però poi lui io credo anche per dei motivi familiari non vorrei sbagliarmi ha preferito ha preferito restare restare a Carpi comunque comunque è il solito grandissimo giocatore anche questa sera si creerà si creerà un sacco di problemi come tanti problemi potrebbero provenire dalla destra ruolo ricoverto da Francesco Ceccarini che ha appena smontato la porta con un tiro che ha colpito l'incrocio dei pali della porta difesa proprio da Nicolo Izos che è attento e guardingo e qui viene salvato ancora una volta proprio dal legno riparte allora è la pressano che si proietta subito in fase offensiva con Dantino che cerca a sontacchi il passaggio per Dallago che va proprio sul pivolo giallonero su cui è stato commesso un fallo e per questo è stato punito con una munizione Francesco Cascone altro elemento di esperienza del Carpi lui che aveva già vestito le maglie in serie A di Gaeta e Fondi oltre che quella del Merano suo team nella passata stagione in cui si era contraddistinto nel ruolo di pivot sotto il che aveva raggiunto il pareggio in un derby contro il Brixen attenzione adesso a Rossi che scambia con Ceccardi poi Dantino vede sontacchi prima di lui però ci arriva proprio Coppola viene servito adesso in attacco con una splendida realizzazione Gabriele Sortino finta il tiro e poi la mette alle spalle di Loizos segue il suo principio anche Francesco Rossi che realizza subito in velocità la rete del 3 a 1 Francesco Rossi a cui Franz Fusina continua a dare spazio si è pian piano cucito questo ruolo addosso e adesso diventa uno dei principali protagonisti di questo pressano si hai detto bene te i primi due mesi intanto bellissimo gol di casa che porta il puntese sul 3 a 2 riparte pressano Ceccardi oggi abbiamo voglia di correre palla da lago che dà in angolo a Nicola Rossi che commette fallo di che commette invasione d'aria hai detto bene te Francesco Rossi che è venuto qua alla scuola del pressano per due mesi ha fatto gli allenamenti è cresciuto pian piano ha guardato Andreassono ha guardato ha guardato da lago e poi alla prima occasione si è conquistato il posto del titolare e sta ben rispondendo e sta ben rispondendo alle attese e nel frattempo il Carpi ha raggiunto il pareggio adesso pressano che è costretto ad attaccare per ritrovare l'avvantaggio Rossi si accentra qui Dantino con un numero un po' alla Leo Messi abbiamo soprannominato il mago il numero è lo stesso del fantasista argentino qui però commette fallo in attacco perché la palla non è riuscita ad arpionarla anzi a dire il vero non era distratto ma comunque è stata un po' troppo leggera questa azione condotta in offensiva dal pressano e Carpi paradossalmente adesso ha anche l'opportunità di andare avanti per la prima volta quando sono trascorsi appena nove minuti qui al Palavis si inserisce casa cambia e dialoga con Cascone poi torna da Coppola il tiro però viene ovattato riparte in contropiede Sontacchi che cerca il secondo palo e trova il gol 4-3 Pressano una versione inedita di Sontacchi che praticamente ha sgroppato per tutto il campo e ha riportato i vantaggi sui Franz si pochissime volte si vede in contropiede però un bel gesto tecnico ha protetto il pallone palesando con la sinistra mettendo il corpo tra tra palla il difensore ha accelerato al momento giusto e con molta tranquillità ha infiliato il portiere di Carpi altra palla gettata dal Carpi palla palla Nicola Moser che spreca con un pallonetto con un pallonetto non ben indirizzato palla ancora Carpi Nicola Moser che non trova l'assenso del Palavis che è praticamente scoppiato in un no generale in seguito al tentativo di realizzazione veramente veramente pessimo Nicola Moser comunque rimane uno dei migliori dall'inizio di questa stagione e oltre ad essere diventato il pilasso difensivo di questo Pressano si sta distinguendo anche in attacco nel frattempo sciupa un altro pallone il Pressano che sembra ancora distratto e poco concentrato dal lago adesso indica la posizione ai propri compagni di squadra mentre Cascone taglia alle spalle proprio di Sontacchi un cliente scomodo sicuramente il pivo spezzino ad attenzione adesso Assortino trova il secondo pallo trova anche la rete ed è 4-4 la pallavis comprende il momento di difficoltà si stringe a livello affettivo ai propri beniamini si alza un coro un boato proprio qui nell'impianto Clavisano mentre Dantino trova il sottomano 5-4 perdonatemi rientra Nicola Moser questo attacco cambio difesa consueto tra Nicola Moser e Pascal Dantino risultato sorprendente al momento è vero che è una fase iniziale una fase di studio per entrambe delle squadre sono iniziati i mondiali in Polonia e Svezia ieri due risultati che hanno un po' scosso l'ambiente la vittoria roboante dell'Egitto sulla Croazia e soprattutto la prima storica mentre realizza un'altra rete fantastica Francesco Cascone una prima vittoria storica e mondiale la seconda partecipazione gli Stati Uniti hanno battuto di misura il Marocco intanto bellissima rete bellissima rete dice Cardi io non posso commentare questi risultati perché fino adesso non ho visto assolutamente nessuna partita però mi fa molto un piacere che in tutto il mondo cresca questo bellissimo sport manchiamo forse solo noi speriamo ora palla Sontachi che infila di nuovo che infila di nuovo la rete forse c'era c'era un presunto fallo di passi di Dallago secondo me gli arbitri non sono stati di questo avviso 7 a 6 per Presano fasi un po' confuse palloni molti palloni persi da entrambe le parti e vediamo di continuare con questa buona difesa allora non fate come Franz seguite i mondiali di palla a mano da qui al 29 gennaio su Eleven Sports in diretta esclusiva i 15 match più emozionante della competizione irritata vi ricordiamo Eleven Sports trasmette in esclusiva anche la serie gold e la serie femminile di pallamano mentre si avventa sulla tacca dei 7 metri Alex Coppola potrebbe raggiungere il pareggio ad affrontarlo c'è Nico Loizos volgia della palavis per cercare di disturbare il terzino brissinese la praticamente sfiora Loizos aveva intuito la direzione del tiro non è riuscito però a negare la gioia del gol ad Alex Coppola 7 pari e nel frattempo Fusina trova la soluzione dell'extra player per ovviare all'inferiorità numerica che si era creata proprio con l'esclusione di Nicola Moser Sì questa fase è sempre molto molto pericolosa però ogni allenatore ormai anche in Italia la dota vediamo appunto Nicola Rossi che era già pronto per riuscire di nuovo e far spazio ancora a Nicola Loizos palla a Pascal Dantino fischio di passivo da Lago palla l'argentino che viene murato ora ancora fischiato il passivo è stata fischiata invasione d'aria non gioco passivo invasione d'aria di Nicola Rossi e adesso Carpi in un attacco ragionato per cercare l'avvantaggio casa per Coppola cercato Ceccarini esce dal lago a coprire proprio la traiettoria che porta Coppola a Nicocasa qui invece la palla si perde sul fondo non ci arriva Sortino che va a rincuorare anche Cascone mentre Pressano adesso vede l'ingresso in campo proprio di Nicola Rossi e gira il pallone Francesco Rossi va da Tantino ritorna da Ceccardi sempre Nicola Rossi Dantino lo scambio con Dallago era risalito anche Nicola Rossi si alza il braccio del passivo Dantino Dantino sfida tutti e poi con una leggera palombella trova il gol 8-7 Fressano di nuovo davanti ceccarini Nocelli fa circolare il pallone Carpi nel frattempo casa chiama anche lo schema sale Sortino si accentra Nocelli salta poi la finta il passaggio a Coppola cerca anche lo soldamento lo trova Sontacchi Loizos cerca Rossi il pallone è forte riesce ad arpionarlo alla testa di Mezzogrona e anche a scagliarla in fondo alla rete per il 9-7 siamo al giro di boa del primo tempo si toglie la maglia ed è pronto a entrare Samuele Serafini mentre rientra in campo Alex Coppola nel frattempo si è concluso già il primo match di giornata nell'anticipo al Palatacca Cassano ha superato il Campus Italia per 27 a 23 e ha ridotto a solo due le lunghezze di svantaggio nei confronti del Pressano agguantando praticamente il Sass vi ricordiamo a questo punto anche il programma della sedicesima giornata della Serie A Gold mentre si provvede all'ascicatura del Parquet del Palavis in contemporanea a questo match che state ammirando ci sono Merano Fondi Sassari Secchia e poi alle 19 Brixen Romagna e Fasano Albatro ci sono stati degli avvicendamenti in panchina certamente ha fatto notizia di più quello di Sassari dove al posto di Passino si è seduto l'ex CT della Nazionale Italiana Zuppo Sì e secondo me questa è una bellissima notizia per la pallamano italiana ritorna ritorna un altro grandissimo allenatore ad allenare una squadra italiana l'ennesima rete di Dalago sull'ennesimo pallone perso da Carpi molto fallosi giocatori modenesi in questo in questo inizio vediamo un casa molto polemico che vediamo un casa molto polemico col suo allenatore Serafini sta uscendo ma io sto sempre dalla parte degli allenatori perché se non va dorato è il terzo pallone che casa ha perso in attacco vai Gianmarco e continua la polemica tra casa e Serafini mentre Cercarini si accentra cerca Nocelli trova il fallo scaglione a incaricarsi della battuta attenzione a Coppola la finta su Cercardi il pallone finisce però nelle mani di Nicola Rossi adesso una palombela per Sontacchi dal lago dal lago con calma fa recuperare i compagni rimasti indietro e si approssima ad organizzare la manovra d'attacco ma non è al tempo perché Sandro Fusina chiama team out e secondo te cosa dirà ai suoi? Mi vuoi sempre mettere in una brutta posizione secondo me Sandro Fusina non è ancora soddisfatto dell'attacco giallonero sono già sono già quattro i palloni persi dalla squadra giallonera io non credo che dica più di tanto sulla difesa perché stiamo stiamo difendendo molto bene stiamo mettendo in difficoltà la squadra del Carpi la bomba da fuoco più più importante di Carpi è stata richiamata in panchina il Carpi l'abbiamo messo in difficoltà non è sicuramente soddisfatto sto vedendo che sta parlando soprattutto con Cercardi non è soddisfatto sulla costruzione del gioco a difesa schierata non si vede la solita velocità che la squadra di Fusina sa mettere nel proprio bagaglio e ha fatto benissimo a chiamare il time out di contraltare anche Serafini non mi sembra non mi sembra il volto della felicità sicuramente anche lui anche a lui fa bene questo time out avrà spronato la squadra del Carpi sicuramente a perdere meno palloni in attacco a compattare le file una partita secondo me ancora molto difficile mi fa molto piacere che sia entrato Nacor Medina e ora abbiamo solo da commentare noi mentre te osservavi la panchina del Pressano io ho scrutato cosa dicesse Serafini ai propri atleti e in effetti hai ragione perché ha chiesto più precisione e soprattutto maggior qualità negli inserimenti nel frattempo debutta in maio a giallonera al diciottesimo minuto Nacor Medina si piazza come terzino sinistro nel frattempo da Lago ha quasi perso un pallone Nacor Medina vede Rossi e subito primo assist peccato che la palla non sia terminata in rete perché ha chiuso poco il polso in questo caso Franz Francesco Rossi Sì non vorrei sbagliarmi di nuovo ma secondo me c'era c'era un fallo che l'arbitro comunque non ha visto il primo pallone l'ha giocato il primo pallone l'ha giocato da campione su un pallone praticamente perso da Lago è riuscito con la sua grande esperienza qua parliamo di un giocatore super che si acquista una buona condizione fisica veramente può fare la differenza nel campionato italiano ha visto Checo Rossi libero e l'ha smarcato con un passaggio illuminante non solo quindi ha recuperato un pallone praticamente perso ha anche sbagliato la difesa qui Cascone ancora una volta punisce Loizos è la seconda volta per il Ligure approdato in estate al Carpi nel frattempo Ceccardi perde l'equilibrio lo recupera poi attende il rientro del funambolo giallunino Dantino non rientra proprio perché al suo posto fa ingresso in campo Nicola Moser per andare a difendere perché nel frattempo il Pressano ha già perso il possesso e Carpi ne può approfittare per rosicchiare nel gap e ridurre a una sola rete lo svantaggio quando siamo giunti ormai al ventesimo del primo tempo Nocelli per Serafini scambio tra i terzini adesso interviene anche Ceccarini che poi taglia cerca il tiro Serafini con la mano Nicolo Loizos che incassa l'applauso della propria panchina e anche del Palavis mentre Ceccardi cerca di smarcare tutti poi viene fermato fallosamente Coppola però aveva già recuperato e si era già involato verso la porta di Loizos fermato dal fischio del direttore di cara ricordiamo oggi i due arbi sono la coppia Idamu e Tempone gioco fermo per consentire l'asciugatura del parquet Palavis che nel frattempo Franz si è riempito già sì una buona una buona affluenza mi fa piacere che il tifo giallonero si continui continui a portare elementi nuovi giovani tifo molto corretto quello che ci piace a noi quello che ci piace a noi sui campi di Palamano sostenere la propria squadra lasciare lasciare perdere ogni ogni discussione calcistica altra magia di Medina e bellissima parata del portiere del Carpi su una girella provata da Pascal Dantino palla all'angolo Ceccarini e anche qua bellissima parata di Niccolò è stato giunto la quinta parata e Ceccarini che si nervosisce per un altro errore non è da lui in effetti di sbagliare così tanto ha un'ottima vena realizzativa e adesso incassa anche una sospensione sinonimo del fatto che Ceccarini non sia ben entrato in partita speriamo che per lo spettacolo di questo match possa recuperare al più presso la concentrazione e soprattutto il giusto status mentre dai nove metri è già pronto Sontacchi si mette d'accordo Tempone con il tavolo si riprende il gioco adesso Medina per Dallago palo terzo assist di Medina terza volta che però il Pressano non ne trae giovamento perché sciupa l'attacco dobbiamo dobbiamo negli allenamenti dobbiamo curare il tiro perché con un giocatore così che manda i suoi compagni alla conclusione dai 6 metri non si possono sbagliare questi tiri non si possono vedere questi errori in un campionato di Serie A comunque enesimo buon passaggio di Medina ora Coppola infila nuovamente la squadra giallonera 10 a 9 e partita riaperta è ancora assottigliata una rete lo svantaggio o il vantaggio del Pressano mentre si avvicendano i protagonisti in campo fa il suo ingresso anche il capitano Nicola Folgeraiter con il 22 sulla maglia giallonera ancora Nacor Medina la finta poi il passaggio Dalago che vede Folgeraiter e vede bene la porta il capitano in sacca all'11-9 e poi Folgeraiter viene acclamato dai propri tifosi Folgeraiter che in questa stagione non sta trovando tanto spazio ma davanti ha una nutrita concorrenza che poi è una concorrenza positiva perché vuol dire che c'è qualità in quel ruolo ed è abbastanza coperto il Pressano sì una concorrenza molto positiva non dimentichiamo che c'è Gazzini che forse forse questa settimana non sta proprio fisicamente bene però bene ha fatto Fugina a dargli fiducia e al primo palone ha infilato la porta del Carpi Carpi che non si dà per vinto 11-10 la partita sta crescendo di tono finalmente Palamedina che si sposta sul lato sinistro richiama Marcel Alas giochiamo con due pivot fisso in attacco anche nell'attacco organizzato sì che c'è Medina dal lago e questa volta esce Folgeraiter forse si sono capiti non si sono capiti entra di nuovo Dantino Medina nella posizione di pivot di centrale chiama il pivot a uscire palla dal lago Medina 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 che infila sul primo palo prima rete giallonera di Nacor Medina che va nella posizione di secondo in difesa un siluro su cui High Frage non può nulla Nacor Medina si presenta così dopo tre assist anche con la rete e riceve l'applauso della Palavis un applauso che viene ricambiato proprio da lo svedese iberico dall'iberico come lo vogliamo definire lui che ha proprio il doppio passaporto l'iberico scandinavo nel frattempo attacca ancora il Pressano qui gran rete di Coppola la palla che lambisce la traversa e poi finisce in fondo al sacco Mentre Rossi ancora Medina Medina per Sontacchi e questo è un bellissimo gol ma soprattutto l'assist che ha sfornato Medina è qualcosa di straordinario Franz secondo me il nostro settore giovanile che vedo che vedo qua presente e questo mi fa molto piacere i ragazzini che vogliono imparare qualcosa io penso che diventerà già l'idolo già l'idolo della nostra formazione perché questo qua ha dei numeri molto belli da vedere a chi piace la tecnica sicuramente non può fare altro che piacere palla recuperata sull'ennesima parata di Nicolò e lo spalla ancora Medina vediamo se ci riesce a stupire attacco tra primo e secondo c'è Cardi e qua si salva il portiere del Carpi bellissima partita e visto che sul mio taccuino ho segnato il tuo monito qui nel frattempo altra rete di sortino il pressano che dovrebbe giocare di più con il pivot forse ha trovato uno degli interpreti migliori per passare la palla lì all'uomo sui sei metri è tutta la settimana che vedo Sontaki particolarmente felice se non ha trovato l'amorosa è perché ha trovato qualcuno che finalmente lo faccia vivere come uno dei più forti pivot che c'è in Italia ora enesimo attacco ancora di Pascal Dantino che è ben entrato mi è molto piaciuto in questo primo tempo il centrale giallo-nero ancora palla Medina facci la magia palla ancora da Lago palla Medina questa volta finta enesima palla nell'angolo Rossi e qua facciamo il complimenti al portiere al portiere del Carpi che sta tenendo che sta tenendo in partita il Carpi questo fallo al limite di Nicola Moser e due minuti per gli arbitri due minuti per Nicola Moser parlavamo di Sontaki che ha finalmente ricostruito forse quel tandem con Fadanelli quel tandem che c'è tuttora nella nazionale under 21 che ha fallito l'accesso alla fase finale dei mondiali di categoria la vittoria splendida con Montenegro e poi le sconfitte pesanti purtroppo ai fini del risultato della qualificazione contro Islaere e Croazia hanno negato il sogno al pivò giallo-nero e anche all'altro lavisano che adesso veste la maglia dei diavoli neri dell'Alperia Merano questo sogno comunque l'Italia ha ottime prospettive nel senso che i talenti ci sono basta lavorare a Cisù e Sontaki con Medina sicuramente potrà migliorare nel suo ruolo attenzione adesso un'altra parata di Lloyd Zos la chioccia di quella Simone Facchinelli che non ha ancora trovato spazio ma sicuramente al prossimo di ore dai 7 metri potrebbe dire la sua sì senza altro hai detto bene anche se al primo 7 metri ha voluto restare lui in porta e ha toccato il palone scagliato da Coppola vediamo vediamo qua c'è tutto per crescere con i giocatori di classe con i talenti si cresce io non riesco a immaginare quando la condizione fisica sarà ottimale quello che potrà dare questo questo giocatore ai tifosi ai tifosi gialloneri vediamo ha molta personalità palla ancora in angolo e questa volta sbaglia il passaggio il passaggio in angolo ma si vede si vede che ha molta personalità e si assume anche e si assume anche la responsabilità di questi errori per quanto riguarda la nazionale è andata male ci avevano ci avevano fatto sognare dopo la prima partita erano praticamente perfetti e poi hanno letteralmente gettato per problemi soprattutto a tiro la partita contro Israele e poi poi non c'è stato più niente da fare con la Croacia comunque i talenti hai ragione tu ci sono qui rumoreggia il Palavis ma c'è un altro tiro dai 7 metri mentre Medina discute con il direttore Idamu Coppola sta già brandendo il pallone si avvia sulla linea dei 7 metri e Loizos non può nulla perché Coppola insacca sotto il 7 13 pari Franz manca poco più di un minuto e mezzo al termine di questo primo tempo noi corriamo già ai ripari cosa deve fare il Pressano per vincere la gara cosa invece deve continuare a fare il Carpi per cercare di rimanere scelta e soprattutto per guadagnare due punti pesantissimi ai fini della salvezza il Carpi è molto cresciuto dall'inizio della partita i primi 10 minuti forse erano inguardabili però sono rimasti sempre non dimentichiamoci a due reti sicché estremamente in partita loro sono cresciuti molto loro sono cresciuti molto e noi a differenza loro dopo il time out di Fusina abbiamo gettato all'aria ben 4 palloni e questa è questa la differenza che intercorre tra le due squadre nel frattempo si interrompe il gioco ulteriormente è molto frammentata questa prima parte di gara per praticamente falli che hanno comportato la caduta dei giocatori sulla parquet quindi il successivo inumidimento del campo di gioco mancano 54 secondi il Carpi per cercare il pareggio vedremo poi se ci sarà il tempo anche per la risposta del pressiano quasi sicuramente l'ultima azione sarà dei gialloneri il Carpi adesso attacca con Coppola Coppola a sfidare Moser parata di Loizos poi in Medina con Calma dal lago mancano 30 secondi Rossi Rossi Rete 15 13 in velocità il pressiano trova il più 2 quindi l'ultima parola di questa prima frazione è del Carpi Rossi che è spronato da dal lago a essere molto più convinto nell'azione e abbiamo visto la differenza dei tiri quando ci va in maniera in maniera convinta e quando ci va un po' tentennando ultima palla al Carpi che non trova la via della rete ottava parata di Nicolo Loizos 15 a 13 tiro di coppola devia la difesa e ci mette una pezza la mano in questo caso Loizos che preserva il 15 13 su cui noi vi diamo un saluto e ci rivediamo qui tra dieci minuti dopo uno spritz una tiella da porto o quel che sia grazie Grazie a tutti. 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 Quindi a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a 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 tutti. Pito al volto e chiede qualcosa di più al direttore di gara per l'intervento di Daniele Soria che in effetti non c'è andato giù morbido dal lago, inganna tutti con la finta, poi c'è Cardi, cerca Francesco Rossi dal lago, si alza il braccio del passivo, deve concludere qui, Medina trova Sontacchi. Sontacchi ancora una volta praticamente lo ha servito in maniera perfetta, poi Sontacchi è stato bloccato e quindi è stato assegnato un tiro dai 7 metri, si incarica della battuta Francisco Ceccardi, Ceccardi, rete, 18-16. E' inutile che te lo chieda Franz. No, rete molto importante di Ceccardi perché non dimentichiamo che a Secchia abbiamo sbagliato ben tre rigori con tre giocatori diversi, quindi primo rigore concesso al Pressano e palla infilata dal nostro grande argentino. Ora Secchia un po' confuso che si affida proprio a casa, palla in angolo, tiro dall'ala che però sbaglia la conclusione. Prima vi dicevi di Medina ma è perché è una vita che giocano insieme, ormai conosce a meraviglia il nostro pivot. Prima partita insieme, pochi i giorni di allenamento congiunti ma c'è già grande intesa tra il centrale e il pivo della formazione cara al presidente Lamberto Giungo. Attenzione qui a Dallago, Dallago vada Ceccardi, l'aveva chiamata Medina, la palla finisce nelle mani di Sortino, quindi il Carpi ha subito l'opportunità per cambiare. Cambiare, rotta poi Serafini con calma, si avvicenda con un casa che rientra in campo. Casa che sicuramente dovrà far di meglio nel secondo tempo. Con il Carpi che si è affidato a Nocelli e Coppola praticamente per cercare di non sopperire. Poi casa ancora Loizos, tiro scagliato in maniera violenta però poco precisa. Oppure grande parata di Loizos, Franz? Sicuramente la seconda, sicuramente Loizos era già su quel palo, probabilmente lo sta studiando dall'inizio della partita ma comunque già dall'anno scorso che è stato infilato molte volte e qua l'arbitro questa volta punisce Sontachi per un fallo che forse nell'azione precedente era stato commesso anche su di lui in occasione del rigore che ci avevano assegnato. Comunque non facciamo polemiche, molto buona la prova della coppia arbitrale a mio modo di vedere. Prezzano in extra player. In frattempo dalla panchina Cascone dà qualche dritta ai propri compagni che adesso devono difendersi dalle angherie del Prezzano che di certo non vuol rimanere a guardare. 19.17 il punteggio, siamo al trentottesimo, stiamo per entrare nel trentanovesimo minuto di gioco. Medina indica la posizione a Folgeraiter, poi scaglia un boiler Alessandro Dallago. La palla conclude però sui banner pubblicitari alle spalle della porta di pesa da Haifraj. Qui ancora Loizos che tiene a galla i suoi che dovrebbero fare un monumento al portiere ellenico Franz. Nico Loizos quando siamo in inferiorità numerica ci pensa a lui, ci pensa a lui. E' un'ennesima occasione però gettata dalla formazione modenese. Anche loro in superiorità numerica non hanno buonissime medie a quanto pare. E' un po' un problema che hanno tutte le squadre italiane secondo me. Palla Medina, ancora l'Argentino che si infila tra il secondo e il terzo difensore e viene sanzionato con un fallo dai sei metri. E' rientrato Folgeraiter. E' rientrato Folgeraiter. Folgeraiter ha preso, Folgeraiter ha preso. E forse qua ci stava anche la sanzione del rigore. Comunque non di questo avviso sono gli arbitri che invece alzano la palla del passivo. Medina. Vediamo ora se Carpi riuscirà a sfruttare l'ennesima superiorità numerica 19-17. Avevamo accennato prima a Fadanelli e al Merano e i Diavoli Neri con la vittoria a 37-30 sul Fondi. Si riprendono il secondo posto e superano quindi il Conversano accorciando sul Bressanone che al momento è impegnato contro il Romagna e stava conducendo 13-8 ma ancora nel primo tempo al 26esimo. Quindi la partita è lunga. Vedremo se gli emiliani, anzi i romagnoli, visto che la squadra sede a Imola e Faenza, quindi è un po' un misto, possa, se la squadra possa recuperare contro una Bressanone che Franz è la squadra assolutamente da battere in questo campionato. La casella delle sconfitte è ancora da riempire e da un grande vanto forse per gli uomini allenati da Tavor Sudura quello zero da esibire proprio nella classifica alla voce delle sconfitte ma al di là di questo i biancoverdi possono sognare uno scudetto nella città Vescovile un ritorno dopo 31 anni della tricolore? Devono assolutamente sognare e poi i risultati dicono questo, i risultati non mentono mai la squadra ancora imbattuta, bella da vedere, bel gioco, frizzante, veloce, una buonissima difesa è un grandissimo lavoro del mister di Bressanone, devono sognare assolutamente ma non solo sognare insomma ci sono veramente le possibilità per riportare lo scudetto in terra alto a tesina ora vediamo un casa molto molto nervoso e palla gettata nuovamente da Carpi riparte la formazione giallonera 20 a 17 anche se sai che a mio modo di vedere io vedo ancora favorito con Bressanone ma questa è una mia convinzione abbiamo accennato alle due squadre alto a tesine non a caso perché vi ricordiamo dal 2 al 5 febbraio all'RDS Arena di Rimini andrà in scena la Coppa Italia nella Final Eight il tabellone ha visto accoppiare Merano e Pressano e l'eventuale semifinale il 3 febbraio i giallonieri di Fusina potrebbero affrontare proprio il Brixen a patto che prima sconfiggano però il Cassano Magnago sì, un percorso molto facile penso che non ci è andata molto bene col Merano non abbiamo dei buonissimi ricordi soprattutto nella prima parte di stagione quando ci hanno battuto meritatamente a Merano a Rimini si gioca in campo neutro vediamo di crescere prima di arrivare a Rimini crescendo come dovremmo crescere secondo me sicuramente ce la possiamo giocare contro Merano la prima partita poi vediamo quello che succede e di questo ne parleremo tra due settimane perché ritorniamo qui al Palavisto il Pressano nel frattempo conduce 21-17 altro pallone sprecato dal Carpi gli emiliani adesso costretti a rinchiudersi a rintenarsi in difesa per difendersi dalle insidie del Pressano gioco fermo ancora una volta per l'asciugatura del parquet questo gioco frassaiato sicuramente non consente Franz ai giocatori di prendere quel ritmo è un grandissimo problema che ha questo palazzetto purtroppo con questo tipo di palquet ogni volta che un giocatore scivola il sudore è molto pericoloso il palazzetto bagnato per i difensori sia difendenti che attaccanti per degli stiramenti e quindi purtroppo il gioco deve essere interrotto questo è questo ci teniamo enesimo attacco di Dantino Francesco Rossi che sta disputando una grandissima partita Nacor Medina che infila la seconda rete giallonera una saetta quella di Nacor Medina su cui non può nulla ai frage e nel frattempo Loizos ancora lui ancora il colosso di Salonico sempre l'ellenico che si erge e praticamente serra la 2 per 3 giallonera 22.17 potrebbe crescere dopo questa azione con Ceccardi che va in velocità Medina serve Rossi sul primo palo chiude il polso bene questa volta realizza il 23.17 più 6 e ormai Palavis e team galvanizzati da questo vantaggio io penso che sia già diventato già diventato l'eroe l'eroe giallonero della curva vedo tifosi particolarmente particolarmente contenti e noi ci stropicciamo gli occhi perché a noi questi gesti tecnici piacciono tantissimo Enesima parata di Nicolo Loizos che non vuole essere da meno prima splendida parata sull'ala sinistra del Carpi e ora aiutato dal muro difensivo riesce ad effettuare la tredicesima parata e Fusina che sta gestendo con la contagocce Medina proprio per evitare che possa affaticarsi prima di trovare la giusta condizione fisica ovvio che lo stia preservando in virtù dei prossimi match in programma qui Rossi poco preciso colpisce il fotografo occhio però a Nocelli che vede benissimo l'ala destra e trova il gol il Carpi qui si assottiglia il vantaggio del Pressano siamo giunti al giro di Boa anche nel secondo tempo poco più di 14 minuti al termine della gara nel frattempo sale anche qualche ole soprattutto quando gioca Medina e colpisce il palo e come anticipava Franz è diventato già l'idolo di questa tifoseria ci ha messo, ci ha impiegato poco più di 15 minuti però ha praticamente fatto vedere tutto il suo spessore non è finita qui perché proprio Medina passa a Dantino Dantino era tutto libero poteva andare a tu per tu con Ibrage lo fa Nicola Rossi per il 24-19 quanto è importante a livello emotivo un impatto nella partita e soprattutto con un pubblico nuovo quello che praticamente ha fatto oggi in maniera egregia Anna Gormedina la cosa più importante è che il nostro mister Alessandro Fusina ha già capito benissimo le caratteristiche di questo giocatore l'ha fatto star lì tranquillo i primi 10 minuti in panchina gli ha fatto guardare la partita e questo per i giovani è molto importante non è che in panchina si sta lì ad assistere allo spettacolo quando si è in panchina bisogna guardare la partita lui sicuramente ha visto dove c'erano le possibilità per attaccare e se state guardando questo time out è uno dei giocatori più attenti a vedere quello che dice il nostro mister un giocatore così esperto sta ascoltando e lo dico soprattutto per i più giovani quando non danno retta ai loro allenatori vedete che è molto attento a realizzare quello che il mister dice nella fase d'attacco certo potrà galvanizzare tutti gli altri giocatori li vedo già con facce diverse non dimenticando che comunque Andreasso l'aveva fatto molto molto bene con la nostra maglia era entrato molto bene in sintonia con la nostra squadra ma questo se mi permetto soprattutto in attacco è un giocatore di un'altra categoria si è preso già l'attenzione tutti i riflettori su di lui non solo i riflettori anche telecamere e fotocamere vi ricordiamo che potrete rivivere sulla pagina Instagram della Pallamano Pressano tutti i match in programma qui al Palavis grazie agli scatti e i reel realizzati da Magdi Soliman mentre è ripreso il gioco e attacca Nocelli che organizza la manovra carpigiana mentre qui Serafini scambia con casa Nocelli gran rete della Marchigiano C'è Cardi che ha cercato Sontacchi lo salva in extremis Rossi che riceve il pallone nel corner opposto e rientra in campo Nacormedina Dantino Dantino adesso attacca in un'inedita posizione di terzino destro Franz Sì ma bisogna Mossa molto intelligente del nostro allenatore che sta facendo rifiatare Alessandro Dallago e spazio ben spazio ben non mi viene la parola molto ben attaccato dal nostro dal nostro Pascal Dantino che può giocare tranquillamente in tutti i tre i ruoli centrali centrale terzino sinistro o terzino destro l'importante è che mi ripeto non perdere i palloni dicevi prima cosa può cosa può incidere un giocatore così vedete che dà fiducia anche ai compagni vedete c'è Cardi è da un bel po' che se non se non mi ricordo male è da un bel po' che non serve il nostro pivot anche lui giocatore molto tecnico ha provato la giocata prima è andata male ma questa è la consapevolezza la fiducia che deve aumentare nei giocatori gialloneri di provare queste queste giocate sul pivot a te nel frattempo fitto dialogo tra il direttore di gara ed il Carpi ne approfitta allora Nocelli per scambiare qualche veduta con coach Serafini si scambia di posizione è lui che seppur da terzino sinistro imposta il gioco del Carpi lo scambio di posizione rete però di Nocelli su cui si appigliano le speranze di questo Carpi Franz Nocelli il giocatore più positivo oggi di Carpi secondo me attacca difende non fa mai polemiche non si lamenta mai per un fallo bellissimo attesamento di questo di questo giocatore mi piace tantissimo il suo modo di stare in campo e di rapportarsi con gli avversari diciamo che Carpi deve a lui insomma se se il se il divario non è maggiore ora c'è Nicola Rossi che prova un tiro da fuori gli era andata bene prima e non e non adesso comunque Nicola Rossi ritrovato in questa seconda parte di gara dopo un primo tempo sotto sotto un po' le sue aspettative parata del portiere giallo o nero che rilancia da lago che non ci sta a restare fuori per più di cinque minuti palla ancora Francesco Rossi che infila se non vado sbagliato la quinta rete nel frattempo voliamo a Bressanone al termine del primo tempo i biancoverdi conducono 17-8 su Romagna ci rasteriamo al volo in Puglia perché c'è l'intervallo anche alla palestra Zizi di Fasano dove la Junior conduce agevolmente sull'Albaro Siracusa che sabato prossimo sarà l'avversario del Pressano alla palestra a Cradina quindi in Trinacria Fasano che conduce 18-9 qui adesso due minuti di sospensione i secondi per Gabriele Sontacchi che probabilmente si accomoderà in panchina in maniera definitiva oppure rientrerà o magari darà spazio visto che il vantaggio dunque non è così cospicuo quindi magari Sontacchi andrà solo in attacco in difesa Fusina ripiegherà su un'altra scelta secondo me invece lo utilizza fino alla fine mancano 10 minuti alla fine abbiamo ben due difensori hai ragione con doppia con doppia sanzione c'è Nicola Moser c'è Sontacchi ma non sono sono i nostri terzi non sono proprio difensori così cattivi io penso che li terrà in campo anche in difesa almeno questo è il mio pensiero Nacor Medina ancora lui affidato va in posizione di doppio pivot e ora Pascal Dantino tenta di smarcare Nicola Moser palla ancora a Nicola Nicola Moser scusate Nicola Moser Rossi Nicola Rossi è entrato vedete a sostituire a sostituire Sontacchi c'è rientro del capitano palla smarcante per Dallago che sbaglia anche questo dai 6 metri non una grande giornata dai 6 metri per Dallago palla in angolo per Carpi che infila 26 a 23 e Sortino che oggi è veramente una bocca di fuoco difficile da arginare per Nicola Zos attenzione perché si ferma il gioco probabilmente c'è proprio Sandro Fusino che protesta perché aveva chiamato forse team out prima della conclusione precedente o per il rientro non sono usciti non sa il tempo di rientro dai due minuti di Sontacchi forse forse è uno sbaglio che può capitare anche al tavolo ora espongono la situazione del rientro dai due minuti Fusino si lamentava per quello ha fatto bene a far interrompere l'azione l'arbitro ha detto no non è colpa mia effettivamente è un errore del tavolo ma siamo umani e possiamo sbagliare tutti comunque è ripristinato l'accordo 26 a 23 attacca ancora la squadra giallonera Pascal Dantino in posizione di centrale Nacor Medina è rientrato Dalago vediamo se gli hanno fatto bene i 5 minuti che gli ha concesso Fusino ancora Medina finta per l'incrocio con Dalago palla Dalago che subisce il falo buona difesa questa volta di Carpi adesso Medina serve Dalago rientra Rossi per dare spazio a Logos ancora Medina trova il muro di Serafini ma ancora pressione in attacco Dantino poi qui palla persa mancano 5 secondi alla parità numerica rientra in questo momento Gabriele Sontacchi realizza però che te lo dico a fare Lorenzo Nocelli 26-24 vantaggio del Pressano che si è praticamente ridotto da 6 a solamente 2 lunghezze e Fusina si è accorto del trend negativo dei suoi allora chiamate Maut proprio per parlarci su Sì c'è Nocelli che ci sta mettendo in grandissima difficoltà e secondo me adesso parlerà molto di difesa sicuramente Nocelli ci sta mettendo in grande difficoltà e vediamo che contromisure che contromisure dovrà prendere il nostro mister lo vediamo particolarmente arrabbiato ma ha anche tutte le ragioni perché da un più 6 in meno di 5 minuti siamo rientrati il più 2 e la squadra di Carpi ci sta naturalmente credendo manca poco alla fine non si può più sbagliare non si possono più sbagliare dei tiri dai 6 metri e soprattutto nonostante abbiamo due giocatori con due minuti con due volte due minuti dobbiamo metterci e riprendere a difendere perché con la difesa abbiamo scavato il solco in precedenza poco più di 7 minuti e mezzo alla fine di questo match rimanete incollati agli schermi per godervi lo spettacolo che ne scaturirà incredibile quel che sta accadendo al Palavis con il Carpi che non ha mai smesso di crederci e che continuerà a lottare per cercare di portare via almeno un punto Pressano che dal canto suo vuol conquistare l'intera posta in Palio perché davanti corrono tutti e quindi è obbligatorio vincere attenzione a Dantino per Anna Gormedina qui Ceccardi la palla gli sfugge Serafini allora pronto per la rimessa a casa già davanti Nocelli Nocelli per casa casa cerca proprio Serafini Nocelli poi casa aveva cercato il Pertugio per Soria deve riaccendere la luce il Pressano non deve spegnerla invece il Carpi che attacca ancora insistentemente con Zoria attenzione a casa casa contrastato da Sontacchi sale Ceccarini con la velocità poi grande rete quella di Nico casa per il 26-25 tutto aperto qui al Palavis Medina serve tantino 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 in penetrazione il gol ma attenzione perché a far più male potrebbe essere non la rete ma l'esclusione di Serafini Franz arbitri che stanno tenendo la linea dal primo all'ultimo minuto quello che piace a noi questi falli li hanno fischiati dall'inizio alla fine e vedo che non ci si lamenta neanche più di tanto perché la situazione è giusta l'ennesima masia di Nacor Medina ma che ve lo dico cosa ancora devo inventarmi su questo giocatore e questa volta Pasquale Dantino penso che sia uno dei giocatori molto veloci molto bravi nell'uno contro uno sarà uno dei giocatori che potrà approfittare della presenza di Nacor Medina nelle nostre file più due è partita tutt'altro che finita occhio allora casa casa per Serafini aveva cercato Coppola che nel frattempo è stato regalato è relegato perdonatemi nella posizione di alla sinistra occhio a casa che libera Soria e allora si ristabilisce la parità numerica e qui cartellino rosso per Gabriele Sontacchi la terza esclusione deve abbandonare la contesa era ritornato in campo per l'esattezza due minuti e dodici secondi fa adesso rientrerà a 24 e 24 vediamo vedremo chi subentrerà Gabriele Sontacchi che si confronta con Alain Fatanelli probabilmente sarà proprio il capitano Nicola Folgeraiter unico pivot oggi in panchina che dovrà ricoprire il ruolo lasciato scoperto adesso dal giovane classe 2003 fase delicata per il Carpi un pallone rovente casa con il piedone Loizos che esulta e fa bene poi grande invece no palo la palla gira proprio alla fine e nega la gioia del gol fantastico si scusa però Nacor Medina con i compagni di squadra il che fa capire la caratura di questo giocatore la caratura e l'umiltà di questo l'umiltà sicuramente di questo giocatore che ha fatto benissimo ha fatto benissimo ora palla in angolo di di Ceccarini che va furbescamente a cercarsi il rigore Nicola Rossi si era fermato era già fermo ma lui oggi non brillantissimo dalla alla destra ha preferito ha preferito un rigore alla conclusione palla se non vado errato a Nocelli Nocelli contro Loizos 5 minuti alla fine pallone che pisa come un macigno va in tutta tranquillità Nocelli va sulla tacca dei 7 metri a sfidare Loizos Loizos che oggi non è stato decisivo nei 7 metri che viene trafitto ancora una volta mentre extra player adesso per il Pressano con Fusina che chiama d'urgenza Loizos inserisce Folgeraiter percepisce il momento di difficoltà del Palavis che rumoreggia crea una bolgia poi qui grande passaggio di Medina a Ceccardi che esulta e ancora una volta lo imbecca la perfezione si lo imbecca la perfezione ma molto bravo Ceccardi questa volta in posizione di Pivo primo a smarcarsi gliel'aveva detto che gliela dava lì e lì gliela data è parlata può essere la parata della partita di Nikos Loizos sull'enesimo tiro di casa palla ancora Pressano 28-26 4 alla fine nel frattempo nel rientro in difesa Ceccarini ha chiesto calma ai propri compagni proprio perché il Carpi sinora ha giocato ha disputato un match veramente ottimo e non può farsi sfuggire l'occasione qui al Palavis per un atteggiamento troppo frettoloso proprio negli ultimi minuti occhio però a questa palla Tantino colpisce ai frage e allora Carpi adesso ha in mano il pallone che potrebbe riaprire il tutto quando mancano tre minuti Nocelli serve Ceccarini questa volta Rossi lo fa andare al tiro non cambia però il risultato perché Ceccarini nel momento decisivo praticamente non sta sbagliando un colpo non sta sbagliando più che altro una decisione prima come faceva notare bene Franz ha preferito nel dubbio andarsi a prendere un tiro dai sette merri realizzati in seguito da Nocelli adesso è andato direttamente lì al tiro e il tabellone lo recita 28-27 trema il Pressano ma Ceccardi qui viene fermato in maniera irregolare chiede qualcosa di più la panchina del Pressano vedremo quale sarà la decisione del direttore di gara che chiama solo un tiro dai 9 metri quindi il fallo si riprende il gioco si lamenta Fusina mentre cerca la traiettoria giusta lo spazio giusto Nagor Medina 29-27 a secalor Nagor Medina esulta Ceccardi ha entusiasmato un po' tutti oggi l'innesso di Nagor Medina e adesso mancano 2 minuti e 5 secondi chiama la difesa il gruppo organizzato dei sostenitori gialloneri in risposta però è arrivata la rete del meno 1 del Carpi 29-28 match al Cardiopalma riaperto fantasticamente e straordinariamente dalla squadra ospite allora noi ce l'andiamo a godere in tutta calma Dantino Ceccardi perde il pallone poi lo recupera Ceccardi parata di Eiffrage e occhio adesso al Carpi casa è troppo frettoloso questo passaggio per Sortino 29 pari Gabriele Sortino un minuto e 20 il siciliano ha gelato il Palavis che nonostante tutto continua a sostenere i propri beniamini ma manca pochissimo è tutto aperto è tutto da scrivere che match amici continuate a seguirlo fatevi incollare incatenare al divano ma occhio perché Carpi ha l'opportunità anche per portarsi in vantaggio c'è Ceccarini 30 29 mette il muso davanti il Carpi cosa sta accadendo qui ha chiamato il team out però fusina pazzesco Franz pazzesco parziale di 3 a 0 in poco più di un minuto del Carpi Pressano che ha perso completamente la testa e compromette i due punti compromette i due punti ma non solo stiamo facendo un po' una brutta figura tiro sbagliato dai 6 metri di Ceccardi che si era ritrovato una palla sui 6 metri dopo un'imprecisione ma ora Carpi non sta sbagliando più niente non sta sbagliando più niente decisivo sarà questo attacco e secondo me se la prenderà ancora Medina la responsabilità di attaccare perché ha fatto l'ennesima magia prima su un 1 contro 1 bellissimo però ora Carpi sta salendo in cattedra stanno difendendo e non stanno più sbagliando niente in fase conclusiva non è ancora finita palla ancora ai gialloneri che stanno giocando senza portiere con due pivot Carpi che non si è fatto spaventare dalle serete di svantaggio anzi si è impegnato la recuperate a 51 secondi dalla sirena ha siglato il sorpasso Nacormedina si alza vede Rossi Francesco Rossi rete 40 secondi alla fine può accadere di tutto può accadere di tutto Carpi adesso con tutta la calma lo sa che potrebbe essere l'ultimo attacco difende molto più alto il Pressano sono quasi tutti sulla linea dei 9 metri tra i rossi Moser occhio che praticamente stanno scortando attenzione qua adesso il corner per la deviazione però c'è stato un team out chiamato da Serafini che è abbastanza polemico con il tavolo si cerca poi di ripristinare la situazione riportando tutti alla calma mancano 21 secondi Franz un match spumeggiante al cardiopalma effervescente ci sono tanti aggettivi per definirlo però adesso è tutto aperto può accadere qualsiasi cosa il Carpi a 21 secondi con il team out e quindi con il possesso ha maggiori probabilità di portarsi a casa i due punti però non è ancora detto nulla noi ci ricordiamo di un Pressano Cassano col Cassano che l'ha buttata via a 6 secondi è un pascal d'antino che ha praticamente scioccato la formazione lombarda realizzando sulla sirena il gol della vittoria si hai detto bene aggiungiamo un'altra cosa gli arbitri hanno alzato il braccio del passivo sicché Carpi non potrà tenere la palla per tutti i 21 secondi che rimangono alla fine della partita arbitri che hanno alzato ora il secondo allenatore Fadanelli dice quanti passaggi mancano e da come si sta schierando Carpi io penso che manchi solo un passaggio sicché palla a casa e poi può succedere di tutto e occhio allora perché c'è anche Sortino che cerca di divincolarsi casa gela il palavisma mancano 20 secondi in tutta fretta il pressano allora attacca una cormedina la chiama Nicola Moserra ancora sono tacchi Medina qui c'è Cardi il palla alta ma c'è un tiro dai 7 metri si blocca il cronometro 7 secondi alla fine e Fusina ha chiamato Medina ma è Ceccardi ad assumersi la responsabilità proprio Ceccardi che dai 6 metri si era fatto ipnotizzare da Selmi ai Fragi i due fratelli Selmi e Saman che ricoprono entrambi il ruolo dei portieri e l'atmosfera c'è la pelle d'oca gol Ceccardi mancano 6 secondi però attenzione casa la devia Medina ancora in attacco il Carpi Sortino Loizos Tettino attenzione Tettino rete di Tettino l'avevamo predetto 32 Tettino il gol non è valido è valido è valido invece 32 Tettino ma questo è un flashback France come contro il Cassano Magnaco shock because Pascal Tettino e adesso perdonatevi ma devo chiamare il mio cardiologo Michele Costiola perché qui è accaduto veramente di tutto ed è ancora tesa la situazione perché i Dammu e Tempone chiamano tutti alla calma c'è il Carpi che si sta alimentando ma è già in corso praticamente il girello e il torello per festeggiare questa vittoria del Pressano io sono veramente senza fiato si lamentano un po' tutti perché non si capisce bene la situazione ma quello che riesce dal tabellone è chiaro 32-31 e Pressano che conquista due punti e sale a quota 21 l'arbitro sta spiegando se non ho capito male se non ho capito male che il tempo nel tabellone era sbagliato l'arbitro aveva il tempo effettivo giusto e l'arbitro ha deciso che l'ultimo gol di Pascal Dantino è regolare forse potevano a mio modo di vedere spegnere il tabellone e chiaramente far capire ai giocatori che il tempo effettivo ce l'avevano gli arbitri ecco questo mi sento di dire comunque hai detto bene te vittoria il cardiopalma per Pressano che non è assolutamente accettato da Carpi e a mio modo di vedere hanno anche loro le loro ragioni comunque ci vediamo la prossima partita con un giocatore stupendo che ci è arrivato dalla Spagna dalla Svezia non so da dove c'è qua un giocatore eccezionale invito tutti a venire al Palavis per la prossima partita i due fattori che hanno contraddistinto questa partita la garra della Carpi che ci ha sempre creduto non ha mai smesso di crederci è andato a un passo anche dalla vittoria ma soprattutto la freddezza quella di Loizos e quella di Dantino Loizos nel non cercare il tiro verso la porta quello proprio della Speranza e invece Dantino che non si è fatto assolutamente travolgere dalla patos che non si è fatto assolutamente distrarre dal momento e come col Cassano Magnaco ha portato a casa questi due punti Dantino lo conosco benissimo probabilmente era molto incazzato che non è stato scelto come primo rigorista ci aveva già fatto esultare contro il Cassano lui è l'uomo dell'ultimo secondo bellissima vittoria giallonera anche se devo dire a ragione del vero che Carpi meritava quanto meno il pareggio a mio modo di vedere e allora noi vi lasciamo qui sull'immagine che vi proviene dal Palavis con tutti i giovanissimi che esultano con i giocatori e Nacor Medina che si va a sedere a sdraiare anzi a fianco a Nicola Moser foto di gruppo tra i giovani sostenitori e il Pressano e chissà che tra quei giovanissimi non ci siano i futuri campioni della Palamano Pressano sicuramente sicuramente in quella foto di gruppo ci sono i futuri campioni vedo la figlia di Dalago e dovremo aprire anche la femminile questa può essere un'idea per la società e noi vi abbiamo raccontato veramente tutto tranne i risultati dei nostri elettrocardiogrammi quelli ve li sveleremo nella prossima partita qui al Palavis mentre vi ricordiamo gli impegni della prossima settimana con Carpi che riceverà il Cassano Magnaco e il Pressano che farà visita all'Albero Siracusa noi vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi auguriamo una buona serata ma soprattutto una buona pallamano a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti